nei paesi caldi lì sì che il sole brucia la gente diventa color mogano dai paesi freddi un filosofo era giunto però solo nei paesi caldi e credeva di poter correre in giro come se fosse in patria ma ne perse ben presto l'abitudine la prima volta che ho letto l'ombra di Hans Christian Andersen era in questa raccolta dei racconti fantastici dell'ottocento di Italo Calvino e subito ho capito che era una storia fantastica per farci un fumetto il progetto era di fare un fumetto dipinto in realtà quando quest'estate abbiamo visto col gruppo di Ink Drop Studio le potenzialità di Mid Journey abbiamo capito che era il progetto perfetto l'ombra di Andersen è la storia di un uomo di uno studioso che manda la propria ombra a indagare dentro una casa misteriosa nei paesi caldi e l'ombra si separa da lui per tornare poi dopo molti anni sotto forma di un uomo misterioso quindi la storia del doppio la storia dell'ambizione di conoscere dell'ambizione di raggiungere esplorare cose nuove che cos'è l'intelligenza artificiale se non l'ombra che noi stessi abbiamo creato e che forse un giorno verrà a chiedere il nostro posto nel mondo esattamente come fa l'ombra di Hans Christian Andersen per cui da agosto abbiamo ci siamo messi con grande passione a realizzare questo fumetto che oggi finalmente ha visto la sua fine abbiamo realizzato 71 pagine lavorando alla cremente e studiando al massimo le potenzialità dei miggiorni nella realizzazione di opere visuali e lavorando tantissimo anche a correggere a ritoccare tutti tutti gli output tutti i risultati che non erano conformi e dove la macchina non riusciva a seguire le nostre indicazioni però è stata un'esperienza stupefacente che ci ha aperto nuovi orizzonti e ci ha mostrato le potenzialità di quest'epoca in questi mesi di lavoro esplosa poi tutta la polemica in relazione all'utilizzo di questi software perché chiaramente in molti artisti è nata l'ansia la paura che lo sviluppo di certe tecnologie che imparano attraverso guardando e osservando l'arte di artisti viventi anche oltre che artisti classici poi forte di questa conoscenza riesca a realizzare delle illustrazioni in pochi secondi di grande fattura e quindi potrà una intelligenza artificiale che ha imparato guardando il nostro lavoro venire a toglierci il lavoro questo ha polarizzato drasticamente l'opinione pubblica degli artisti in merito a questo se qualcosa da sperimentare se è uno strumento o se in qualche modo ci stiamo costruendo l'ombra che poi ci verrà a togliere la vita a questo dedicheremo semmai un video dedicato su queste su questo vero è che l'arte è furto lo diceva anche picasso diceva il mediocre copia e il genio ruba quello che possiamo dire è che sicuramente l'illusione più velenosa il vero nemico non è tanto mi giugno l'intelligenza artificiale quanto credere di essere al sicuro credere di essere in una zona dove non c'è bisogno di evolvere dove non c'è bisogno di crescere non c'è bisogno di adattarsi ormai in tutti i settori l'evoluzione è diventata in tutti i settori lavorativi e proprio nella società l'evoluzione è diventata un elemento fondamentale per riuscire a sopravvivere e a poter mantenere la propria posizione dobbiamo evolverci nel commercio dobbiamo evolverci nella comunicazione nelle competenze scientifiche nelle competenze tecniche per cui l'artista per primo all'obbligo di cavalcare i flutti di cavalcare l'impermanenza e adattarsi ed evolvere insieme ai mezzi l'idea che noi impariamo un lavoro a vent'anni che questo lavoro avrà lo stesso la stessa forza e la stessa attuabilità e lo stesso mercato per tutta la vita o per altri vent'anni è impensabile in tutti i campi e quindi anche nell'illustrazione gli artisti che evolveranno utilizzando o meno i mezzi a disposizione ma gli artisti che evolveranno riusciranno a continuare ad esprimersi e riusciranno a continuare ad essere presenti nel mercato gli artisti che non evolveranno verranno superati anche dagli altri perché la vera competizione non è con la macchina ma chi con la macchina la usa o con chi non la usa perché la competizione era già diventata globale e il copia copia era già la norma per chi veramente non vuole prendersi in giro in ogni caso questo lavoro torniamo all'opera questo lavoro è stato al centro di una campagna di crowdfunding con kickstarter che è stata molto soddisfacente per essere un progetto innovativo e sconosciuto ai più e abbiamo finito abbiamo finito il libro lo abbiamo mandato a stampa in queste ore e presto arriveranno le copie da mandare ai nostri sostenitori l'ombra non sarà distribuita nelle librerie in nessun modo avrà avrà il nostro spazio noi avremo prossimamente nel 2023 degli spazi infine le più importanti fiere di fumetto e di libro con ink drop studio dove cercheremo di esserci e portare le copie oltre alle altre nostre opere le copie dell'ombra stampate e poi tra qualche mese saremo anche presenti con una versione digitale su amazon per cui troverete avrete modo di vedere l'ombra avete modo di acquistarla avete modo di leggerla uno dei primi graphic novel al mondo realizzato con l'aiuto di miggiorni e l'intelligenza artificiale un'opera che veramente indaga questo problema e questa tematica da con lo sguardo e la cume di un artista dell'ottocento quindi questa è noi abbiamo fatto questo sforzo con grande passione sia perché chiaramente sperimentare nella nostra natura non esiste arte senza sperimentazione se c'è un nuovo strumento è stato un po come fare un libro con la lampada di aladino e chi non avrebbe voglia di sperimentare e di spingere il genio macchina fino al suo limite per capirne le potenzialità e le possibilità l'uso di miggiorni in arte è sconfinato si può usare per produrre si può usare per per creare delle basi si può usare per creare delle mappe colore si può usare in mille modi e il coraggioso e chi come dire non ha bisogno di erigere barricate contro il vento può provare e sperimentare le possibilità è entusiasmante l'idea di intervento interrogare qualcuno per realizzare delle opere per realizzare la tua visione interrogare un altro uscire dal 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 dialogo personale con la con il foglio ed entrare nel dialogo con un altro anche se sintetico che realizza quello che tu cerchi di realizzare e che quello che tu pensi deve essere mediato da quello che fa questo soggetto altro questa è un'altra riflessione molto interessante così come si può anche non usare si può competere con la tecnologia si può competere con l'evoluzione come dire abbiamo sostenuto la competizione con l'arrivo dei social con l'arrivo di pinterest con l'arrivo di internet con l'arrivo di un mercato dell'arte che compete ormai globalmente per cui non è obbligatorio usarlo non è obbligatorio scoprire non è obbligatorio sperimentare in questo senso si può sperimentare con l'arte contemporanea col fumento con l'illustrazione tornando alla pittura cioè si può fare tutto l'importante è avere il giusto atteggiamento non essere schiavi né della macchina e né dell'ostilità alla macchina è chiaro che è come il trattore prima per arare un campo ci volevano 50 persone adesso ci vuole un trattore comandato da distanza col telefono e questo è chiaro che però questa cosa fa parte della storia dell'uomo non si può è vero è anche entusiasmante che un domani un bambino di 12 anni possa realizzare una cosa del genere senza l'ausilio della tecnica e qui si aprono mille altre incognite è la tecnica l'arte o è la visione o pochi non ha tecnica avere visione io sono ansioso di scoprirlo sono ansioso di misurarmi e fare e competere con storie film cortometraggi perché poi chiaramente in pochi anni l'intelligenza artificiale metterà in grado qualcuno di fare un disegno e animarlo e realizzare i bambini faranno cartoni animati a ricreazione e io sono ansioso di misurarmi da artista con la visione di un bambino di 12 anni che ha una macchina che gli permette di competere con la disney e voglio capire la mia posizione in questo ma senza avere paura del confronto perché poi dobbiamo essere come posso dire avere il coraggio di essere nudi di fronte al sistema di fronte all'ispirazione di fronte al valore artistico non possiamo nasconderci dietro la tecnica io ho imparato 30 anni a dipingere e nessuno deve usare un mezzo per dipingere come me che più facile certo che sì perché è una gara è una competizione artistica è quello che è successo con l'arte con le avanguardie artistiche quando è nata la fotografia i grandi pittori i grandi pittori noi abbiamo usato l'unico tag di artisti che abbiamo usato nei nostri prompt è stato paul della roche perché paul della roche è quello che quando è nata la fotografia ha detto che l'arte era morta e invece l'arte non è morta e così l'arte non morirà morirà certi certi ma moriranno certe tipologie di professione ma chi le fa deve evolvere cambiare professione cambiare modo così come è il destino di ogni essere umano per cui l'ombra un fumetto noi abbiamo fatto questa storia anderson illustrato da me giorni ok quindi sembra che non abbiamo fatto niente ci hanno dato dei parassiti per questo chiaramente chi non sa chi non sa che ci vuole una sceneggiatura che ci vuole un ritmo che ci vuole una composizione che ci vuole una capacità visiva una regia una direzione una correzione questi qui sono i miei denti ok quindi perché per creare una connessione un'opera l'opera conta non io io ho messo che nella copertina di questo libro diretto da daniele marotta non sono l'autore anche se lo sono un testo di anderson disegnato con i giorni piegato spinto al massimo da noi a tutti i livelli con la versione 4 molto potente disponibile in queste ore abbiamo aggiornato un sacco di personaggi e realizzato delle cose che fino a qualche settimana fa non era possibile siamo andati tornati indietro abbiamo aggiornato un sacco di cose allora è entusiasmante anderson con una visione sull'umanità e sulle debolezze umane fortissima sull'ambizione illustrato quindi i mezzi di una di una intelligenza artificiale del 2022 che veramente porta a compimento la sola questa visione essi che si interfaccia in modo perfetto grazie alla mediazione umana grazie alla mediazione dell'artista grazie alla visione e al senso di sperimentazione di intro studio questa è la natura di quello che abbiamo fatto con grandissima gioia e soddisfazione per cui è il futuro è il presente io sono stupito e emozionato di parlare con le persone coi colleghi di diritti dell'intelligenza artificiale mi sembra di stare in un film di asi in un libro di asimo di io robot io intelligenza artificiale posso io copiare posso io dipingere posso io ispirarmi come fate voi esseri umani questo è l'interesse che poi il prossimo libro può essere fatto diversamente gli artisti si butteranno a dipingere su mazzuttela su cartone su sul legno e vendere gli originali questo può essere un esperimento unico abbiamo fatto ballare l'intelligenza artificiale un'opera che non esisteva un'opera così non esisteva prima non esiste perché non è possibile fare un'opera un fumetto con dei dipinti a olio ci abbiamo messo quattro mesi tre mesi per realizzare una visione narrativa per realizzare un'opera vi consiglio di leggerlo perché abbiamo cercato di renderlo entusiasmante emozionante un film a olio su carta questo è quello che abbiamo cercato di fare con un mezzo che potevamo farlo solo con i giorni in questo senso questo è usare lo strumento per una cosa che può fare solo lei e non per facilitarci la strada abbiamo lavorato tre mesi a correggere a ritoccare ad aggiustare a sistemare abbiamo prodotto migliaia di output in cui nulla è uguale a un'opera d'arte esistente sfido chiunque a comprare questo libro e a dirci che qui dentro c'è un plagio di un'opera d'arte esistente non c'è per come l'architettura del programma e per come sono state fatte le scelte da noi e per come abbiamo interrogato il prompt non ci sarà un plagio qui dentro questa è un'opera unica che parla un linguaggio che prima non esisteva abbiamo spinto ci siamo spinti con questo razzo in una zona nuova che magari diventerà la norma e magari noi la continueremo a seguire questa strada o magari faremo i fumetti con l'inchiostro di china sul legno non si sa cosa faremo prossimamente anche se lo sappiamo ma non lo anticipiamo per cui è finito questo viaggio incredibile che ci ha portato da avere un orizzonte luminoso in mezzo a una tempesta di commenti di disprezzo di apprezzamento di coraggio di sfida di forza un'opera nata nella mia mente circa cinque sei anni fa dopo aver letto l'ombra di anderson e che adesso arriverà nelle case dei nostri sostenitori degli appassionati che andranno su amazon fra qualche mese di chi verrà a comprarci in fiera per con vedere toccare con mano una cosa incredibile un'esperienza forte incredibile e seguire i passi dell'ombra vi saluto da daniele malotta è tutto scuola di fumetti e scrittura il drop studio a presto